Ciao ragazzi, in questo video vedremo come realizzare un comodissimo caricatore singolo per le celle 18650 in modo da non dover sempre arrangiare strumenti fatti in casa come calamite o cose del genere per agganciarsi ai due poli, ma usare questo simpatico design stampato in 3D che ci permette di caricare le nostre celle con un semplicissimo cavo microUSB tramite un modulo con all'interno l'integrato TP4056. Ma ora come sempre mettetevi comodi e vediamo cosa ci serve per costruirlo. Prima di tutto un pezzo stampato in 3D, quindi vi serve inevitabilmente una stampante 3D 20 cm all'incirca di cavo elettrico da minimo 1A e un modulo con l'integrato TP4056 come questo. Il primo step è quello della stampa del pezzo in 3D infatti come avrete notato già dalla copertina per costruire questo pezzo è necessario l'utilizzo di una stampante 3D ovviamente si possono arrangiare altre soluzioni senza stampante 3D ma se ne avete una è molto meglio. Il pezzo che dovete stampare lo potete scaricare dai file oppure da questo link che vi porta al sito Thingiverse dove l'utente YXC ha pubblicato il pezzo. Il design è veramente ben fatto, si stampa in un solo pezzo e ospita perfettamente il modulo TP4056 e la cella 18650. Quindi passiamo avanti a come aggiungere i contatti per le batterie. Una volta stampato il pezzo non dovrete fare altro che spellare un filo di rame all'incirca di 3 cm e infilarlo nei fori che sono presenti nel pezzo stampato in 3D. La parte spellata del filo sarà il contatto che toccherà i poli della batteria una volta fissato con un po' di colla. Una volta che i fili saranno arrivati alla parte dove deve essere fissato il modulo potete passare avanti ai collegamenti elettrici. I collegamenti elettrici da fare sono solo due ovvero positivo della batteria e negativo della batteria. Il modulo con all'interno l'integrato TP4056 offre anche la possibilità di proteggere la batteria facendo passare il carico per un altro integrato all'interno del modulo che protegge la cella ma per questo progetto ci servirà solo la funzione di carica. Quindi vi basterà collegare il positivo al pin B più e il negativo al pin B meno saldando i fili sulla scheda. Ed è finito. Bene, ora non vi resta altro che incollare il modulo in posizione e avviare la vostra prima carica finendo così la creazione di un ottimo strumento che vi permetterà di caricare singolarmente le vostre celle 18650 senza arrangiare strumenti misteriosi per fare lo stesso lavoro. Alla prossima!